e stiamo arrivati a giovedì oggi 14 marzo come al solito team wad team da tre avremo un buy in con 3.000 oppure 2.400 metri di row e poi subito dopo a 25 minuti di 50 box jump 50 ghd setup 50 deadlift 50 box jump 50 dhd setup 50 deadlift e poi ancora 50 box jump 50 dhd setup e 50 deadlift pesi scalature come al solito sulla grafica qui di fianco buon bode ea domani per l'ultimo voto della settimana